Meg Workspace dispone di uffici arredati, spaziosi, adatti a ogni tipo di attività commerciale o imprenditoriale. I nostri spazi sono interamente cablati, climatizzati e dotati di sala riunione, in un complesso dotato di parcheggi a pochissima distanza dai principali assi viari di collegamento. Se hai bisogno di un ufficio già arredato o più spazioso, oppure se vuoi aprire subito una sede aziendale, abbiamo proprio quello che fa per te. Meg Workspace, i tuoi uffici arredati a Mosciano Sant'Angelo. Chiama al numero 320 25 75 786.